Pio Mirra, Presidente dell'Istituto Agriopo Avoncelli, quanto siete soddisfatti di poter ospitare nei vostri giardini calici al Burgo Antico? Il Consiglio d'Istituto è stato ben lieto di poter collaborare con la Gorà quando c'è pervenuta questa richiesta, proprio in vista di valorizzare l'eccellenza del nostro territorio, perché siamo sempre saliti dell'idea che nessuno è profeta in patria, e quindi noi siamo una scuola di settore che siamo anche molto apprezzati nelle altre regioni, però forse nel nostro territorio sono eccellenze che non vengono adeguatamente sviluppate. Tra l'altro qui ci sono diverse degustazioni dal vino prodottino gastronomico e non solo? Si chiude la filiera, si chiude la filiera dalla produzione alla trasformazione e quindi con il food. e noi l'abbiamo chiuso anche nella formazione perché al corso di enologia abbiamo aggiunto il corso di enogastronomia. Ci saranno altri eventi importanti che vi riguarderanno quest'anno? C'è una programmazione in questo senso e poi ne daremo notizie anche alla stanza. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.